benvenuti anzi bentornati nel mondo touch di lg sì perché oggi voglio parlarvi del ritorno di un grande successo lg con il nuovo cookie fresh erede del cookie che ha venduto in italia oltre un milione di pezzi cookie fresh ha un display tattile da tre pollici ma soprattutto è un telefono che cambia insieme a voi allo stesso modo del cookie originale cookie fresh offre immediatezza d'uso semplicità e personalizzazione proprio così la parola d'ordine è personalizzazione a rendere speciale cookie fresh è la possibilità di adattarlo ai propri gusti si parte da un'ampia gamma di colori disponibili che spaziano dal blu all'arancione al viola a cui si aggiungeranno per l'estate il rosso e il verde cookie fresh è un telefono frizzante arricchito da un'interfaccia touch efficace e al tempo stesso versatile strisciando il dito sul display infatti si scorrono le tre schermate home a disposizione una per i contatti preferiti una per i widget scaricabili dalla pratica widget gallery e una dedicata al live square ovvero la piazza virtuale che si popola con gli avatar animati dei contatti più frequenti cookie fresh permette quindi di gestire la propria cronologia in una maniera più dinamica e divertente grazie alla possibilità di trascinare gli avatar su chiamate e messaggi oltre a poterne personalizzare l'aspetto i due temi a disposizione rendono cookie fresh ancora più accattivante quello in stile fumetto presenta le icone disegnate a mano mentre quello classico permette di scegliere fra ben 18 colori dei menu in modo da essere sempre in linea con il proprio stato d'animo cookie fresh è dedicato a un pubblico di giovani e giovanissimi che cercano un telefono touch semplice da utilizzare ma ricco di funzionalità divertenti come il riconoscimento dei segni che permette di accedere alle funzioni preferite disegnando uno dei segni predefiniti sullo screensaver ma è perfino possibile disegnare sulle fotografie scattate con la fotocamera da 2 megapixel e aggiungere fumetti e icone con l'editor di immagini per poi caricarle su facebook grazie all'applicazione dedicata con cookie fresh infatti è possibile rimanere sempre in contatto con i propri amici su facebook e su twitter sull'onda del successo di questi due social network il tutto a ritmo di musica con il lettore mp3 o con la radio fm che tra l'altro non ha bisogno dell'auricolare per funzionare in quanto l'antenna è integrata potrete ascoltare la stazione radiofonica preferita senza fili oppure registrarla impostarla poi come suoneria o ancora inviarla agli amici tramite bluetooth o email cookie fresh sarà presto disponibile nei migliori negozi di telefonia con una dotazione di serie che comprenderà l'auricolare stereo con jack standard da 3,5 mm e il cavo dati con connettore micro usb per il trasferimento di contenuti da e verso il pc cari amici di lg in the box anche per oggi è tutto vi do appuntamento a prestissimo per una nuova puntata in cui torneremo a parlare di touch alla quarta potenza alla prossima